Per la Regione Campania significa lavorare sull'innovazione, puntare sull'innovazione integrando le politiche in una prospettiva di sviluppo che passa per la crescita dei giovani, l'aumento delle possibilità, l'innovazione per l'appunto, ricerca, innovazione, lavoro. La Regione sta puntando, integrando le politiche allo sviluppo dei territori e lo sta facendo su tutti i fronti, quindi quello dell'innovazione legata alla ricerca, all'università, alla formazione, il benessere dei giovani, lo sta facendo rispetto alla crescita dei territori, aumentando la possibilità della fruizione degli spazi, dei collegamenti, dei trasporti. Sta lavorando a tutto tondo, è una prospettiva di sistema. Noi stiamo lavorando su fondi molteplici, non solamente quelli del programma europeo, quindi siamo più di 10 miliardi quelli che sono in campo, fra fondi nazionali, fondi europei, fondi legati al Fondo Sviluppo e Coesione. Sono tanti e adesso stiamo lavorando su dei bandi specifici, quelli di questo convegno, che cubano una sessantina di milioni, tutti dedicati allo start-up, all'innovazione e alla ricerca.